Questa è la prima operazione registrata per il conto di Professione Trader ed è un costo operativo. Benvenuti con questo nuovo appuntamento settimanale. Io sono Damiano Zito, Presection Trader e membro attivo della Community e Accademia di IR Forex. Allora, ben ritrovati quindi con questo aggiornamento settimanale. Sono davanti alla piattaforma MT4 collegata al conto di Professione Trader, come potete vedere. La prima operazione è stata uno short su euro, non un long, uno short che ho fatto il primo giorno del mese, il primo novembre, ed ha generato un costo operativo di circa 86 euro. Quindi al momento non ho posizione aperta, questa è l'attuale situazione sul conto, non ci sono posizioni aperte, quindi questo è il saldo. Ho registrato l'operazione sul diario di trading, ve lo faccio vedere, è un diario che ho iniziato a compilare. In questo momento siamo a novembre, quindi una sola operazione, la prima operazione per la quale sono andato a inserire i dati in questione. Quindi è un'operazione che ho inserito il primo novembre, mercoledì, quindi la scorsa settimana, sul mercato Eurodollar, uno short, e ho lavorato sull'FTV settimanale e per quanto riguarda l'investimento avevo investito 88 euro sul livello di 1.0705, adesso andiamo a vederlo un pochino sul grafico, entrando a 1.0520. Come vi ho già fatto vedere da MT4, dalla MetaTrader, l'operazione ha generato un costo operativo, sono uscito il 3 novembre, l'operazione è andata a stop, stop loss, quindi non sono uscito manualmente, proprio andando a colpire l'ordine stop loss nella zona di 1.0705. Ho ricevuto degli interessi per questa piccola operazione, quindi diciamo che il totale dell'operazione è meno 86,38 euro, operazione che ho fatto ragionando su quella che era in quel momento la debolezza e non più la forza del cambio sotto il livello 1.0550 e quindi ecco la nota che ho scritto, che ho annotato, appunto che ho assegnato sul diario di trading. Poi man mano che lo andrò a compilare, chiaramente avrò poi qui un riepilogo, una situazione che mi andrà a, come dire, mostrare e dare una situazione del conto. Quindi qui per esempio novembre, chiaramente adesso siamo a meno 0,86%, ma è la prima operazione. Allora, io passerei a ProRealTime per andare ad analizzare la situazione sul grafico appunto di euro e quindi andare a vedere quali sono stati i ragionamenti, qual è stato il ragionamento che ho fatto per entrare al mercato. Anche perché chi ha seguito la prima puntata di questo nuovo format avrà visto che in realtà ero più propenso per un long che per uno short. Però quando stavo registrando, possiamo andare a vedere, era il martedì 31 di ottobre, il prezzo del cambio si trovava su queste zone, 1.0660 circa, che tra l'altro è la zona dove sta battendo adesso il prezzo, e dicevo che ero molto interessato, vista la dinamica che si stava creando, vista la tenuta dell'1.0550, eccetera, eccetera. Insomma, andate a rivedere il video per andare a vedere il ragionamento. L'idea era cercare a quel punto uno spunto anche su un 4-6 ore per andare long. Poi che cosa è successo? È successo che effettivamente il prezzo ha chiuso con questa candela qui, proprio il martedì 31 ottobre della sera, chiude negativo con un rifiuto proprio della zona 1.0660. Quindi, diciamo, nell'end of day non ho avuto sicuramente delle conferme operative per andare long. Il giorno successivo, in realtà, quindi nella giornata proprio del primo novembre, andiamolo a vedere sul 4 ore, la mattina, dopo quel ribasso, il prezzo rimane un po' schiacciato. Rimane un po' schiacciato, chiude la prima, la sessione praticamente delle 13, quindi la sessione europea, la chiude sotto il livello di 1.0550. Fa così, diciamo, fa così pensare al fatto che probabilmente il prezzo possa andare a fare un giro un po' più in basso e quindi comunque ho atteso, ho atteso, non sono entrato su questa debolezza e ho atteso praticamente poi l'ulteriore candela delle 4 ore, quindi stiamo parlando della candela che inizia alle 13. ho pensato di inserire un ordine self-stop sotto 1.0520, lavorando però appunto su, diciamo, due elementi principali. La debolezza che si era venuta a verificare proprio sotto il livello 1.0550, quindi questo, è perché aveva creato questo spike, cioè era andato a prendere il, come dire, a falsare questo massimo delle 4 ore. È vero, questa non è proprio una pin bar, un decision pin bar, comunque non era proprio questo il mio trigger, se non il fatto che il prezzo in quel momento mi stava dicendo che era debole. che tra l'altro venivamo da questo tipo di, come dire, di forza ribassista, quindi ho pensato di lavorare su questa debolezza momentanea di prezzo e quindi sullo swing settimanale. Uno swing settimanale, quindi andando a posizionare, quindi l'ingresso self-stop a 1.0520, quindi sotto questo minimo, sotto questi minimi, anche perché c'era stata di poco, se non sbaglio, la convaglia dello swing settimanale e mettendomi sopra il massimo weekly. Lo faccio vedere sul settimanale proprio per evitare, diciamo, per dare più chiarezza. Questa era appunto la situazione, questa candela non era ancora formata, io sto parlando quindi di questo setup, che in realtà era una PIN, FFTV, anche Inside Fake Out, che però come Inside Fake Out veniva confermata molto probabilmente meglio qui che qui. In ogni caso, ecco, ho inserito quest'ordine, lavorando sulla debolezza, sul trend di fondo e posizionando lo stop sopra questo massimo. Benissimo. Quindi l'operazione, io inserisco questo stop, self-stop, con uno stop loss, uno 0,750, in realtà subito dopo l'esecuzione dell'ordine di vendita, il prezzo recupera. Allora, qui siamo praticamente inserate, diciamo che in giornata il prezzo chiude così, chiude con una falsa rottura, fondamentalmente, con una PIN bar che però è in contrasto. È in contrasto, siamo quindi con un giornaliero che a questo punto si è fondamentalmente incastrato, diciamo, qui. Siamo praticamente in questa situazione. Andare a questo punto a chiudere l'operazione era una delle ipotesi che ho fatto. Avrei chiuso, tra l'altro, con un piccolissimo costo. Però, visto il rifiuto che c'era stato il giorno prima, ci stava a poter scegliere durante la mattina successiva, insomma, il giorno successivo, di rimanere un po' a guardare e capire cosa stava avvenendo nel mercato. Quindi ho cercato più che altro di non essere molto reattivo in questo caso e quindi stare ad osservare anche perché fondamentalmente stavo lavorando su una dinamica più weekly che daily o quattro ore, anche se sono andato a cercare l'ingresso di fino sul quattro ore. Quindi il giorno successivo, dopo la PIN, ecco che il prezzo prova nuovamente un rialzo, quindi la giornata di giovedì, il 2 novembre. Il 2 novembre fa questo rialzo, viene ributtato giù, quindi rimango a mercato. Anche perché, insomma, qui mi sta confermando che il prezzo probabilmente non è A, anche se bisogna considerare che è vero che lui è stato buttato giù, ma la chiusura è ancora alta. Sopra 1,06, ovviamente sopra 1,05,50. Quindi non era da escludere comunque un ulteriore possibile, come dire, tocco, test di questi massimo, addirittura questi. Però, insomma, c'era ancora tutta questa fascia, ok? Tutta questa fascia qui che poteva in qualche modo, diciamo, agire da zona di vendita, lo era già stato, e quindi valeva la pena a questo punto rimanere in posizione, stare a guardare, male che vada, ho pensato, la posizione può andare a stop, lo stop comunque non è eccessivo, e, insomma, pazienza in questo caso. Così è stato il prezzo la mattina di venerdì, già alle 13 era ancora forte, chiude in questo modo, e successivamente, boom, sfonda al rialzo, e quindi non sente neanche, praticamente, questi massimi, questa zona. Quindi va a colpire lo stop. Ora siamo in una fase di pullback. Avevo segnato poi su questa dinamica, proprio sul 4 ore, perché in realtà anche sul 6, insomma, combacia molto bene, perché questa, cioè questa dinamica, poteva, questo recupero, no? Dal 6 ore l'ho analizzato per capire un po' come si poteva muovere nel breve il prezzo, una volta che sono entrato e la posizione era contraria alla mia, e effettivamente c'erano appunto queste confluenze. La prima era il T3, dove questo, come dire, questo rialzo poteva arrestarsi o fare anche inversione, ma poi c'era anche questo T4, e addirittura l'1.07 era proprio il T5 della candela, come dire, che ha rimangiato lo short. E va bene, insomma, il prezzo comunque è arrivato addirittura al T6, è proprio qui dopo aver fatto il tocco del T6 di questa candela a 6 ore adesso, sta ritracciando. Molto bella, molto bella la dinamica, anche perché adesso chiaramente io sto attendendo e sto cercando di trovare una entry long sul mercato, anche a 6 ore, però diciamo preferibilmente sul daily. E le zone, le zone chiaramente dove voglio andare a valutare un long sono proprio le zone di prezzo di 1.06.50, in realtà finché il prezzo rimane sopra 1.06, nel senso che lui oggi potrebbe anche fare una cosa del genere, poi tornare ancora più giù e poi fare qualcosa del genere, molto, come dire, molto possibile, andrei poi a valutare un buy stop magari per entrare e andare a, come dire, a target magari verso l'1.085. 1.085 che è un prezzo, un livello di prezzo dove probabilmente, diciamo, dovesse entrare long andrei a posizionare un target o comunque a chiudere eventualmente un'eventuale posizione, perché insomma ho visto essere un livello di confluenza con questa dinamica 1, 2, 3 che ho analizzato qui sul giornaliero ed è anche in realtà il T5 della PIN settimanale che ancora, che non è mai stata, che non è mai stata, come dire, invalidata. Quindi eccola qui, sto parlando di questa barra, la candela weekly della settimana 40, quindi molto, molto bella a questo punto la dinamica potrebbe effettivamente proprio arrivare a 1.0850 anche se la, diciamo, la zona vera di vendita è un po' più in alto, 1.09, eccetera. Va bene, insomma, questa è la situazione sull'euro, situazione che per quanto riguarda possiamo vedere un po' qui il trend in atto, insomma è interessante andare a capire cosa sta succedendo anche perché, diciamo, in generale sul dollaro io questa settimana vorrei posizionarmi short sul dollaro anche se il mio piano in realtà è rimasto long short praticamente su quasi tutti i mercati, però questa era la situazione, avevamo un mercato che si era mosso fondamentalmente in questo modo, quindi aveva fatto questo, aveva questo trend short molto chiaro, con swing anche ravvicinati su questa zona, poi eccoci qua, non aveva più fatto uno swing low, swing low che ha creato con questa settimana, quindi questa pin bar, e poi questo, questo era lo swing, questo è l'ultimo swing high che in realtà è stato già rimangiato dalla settimana scorsa, quindi da questo doppio minimo air close, quindi anche un trigger settimanale, che appunto nel momento in cui è andato a, poco prima di crearsi, è andato a convalidare questo swing, questo diventava swing high, poi il prezzo lo richiude, quindi classica situazione dove i doppi minimi, i doppi massimi in realtà fanno swing, ma poi vanno anche a rimangiare il prezzo. Quindi in questo caso fa un 1, 2, 3, quindi adesso abbiamo, per intenderci, questo tipo di dinamica, appunto, 1, quindi 1, 2, 3, che è molto più chiaro. E i prezzi, chiaramente potrebbero arrivare appunto in questa fascia qui, in questa zona, questa è la zona dove intendo acquistare. Potrebbe, appunto, il prezzo potrebbe arrivare qui giù e a quel punto valuterei l'ingresso long con un trigger. Chiaramente, se noi guardiamo questa struttura, c'era questo trend short in atto, adesso sembra che il mercato, appunto, creando questo tipo di dinamica, sembra voglia creare e confermare una dinamica long nelle prossime giornate, settimane. Quindi, analizzati anche gli swing e i livelli, insomma, direi che questa situazione, questa settimana mi rimane abbastanza chiara, preferisco un long sull'euro, salvo, vista la confusione che c'è stata qui, per certi versi, salvo, diciamo, un fake di questo forte rialzo, cioè dovesse rivelarsi questa, una trap bar, insomma, chiaramente, insomma, ce lo dirà sicuramente il prezzo. Allora, a quel punto cambierebbe anche la figura settimanale se ritornerebbe short. Tra l'altro, sono cose che possono avvenire nel mercato una situazione simile, anche se temporalmente, su livelli diversi, probabilmente è avvenuta, anzi, senza probabilmente, è avvenuta nel 2022, mi sembra, a gennaio del 22. Andiamo a cercare. Mi sembra proprio in questo periodo, sì. Cioè, chiaramente qui era una situazione completamente diversa, però stiamo parlando di questo tipo di congestione, una congestione un po' più ampia, che probabilmente qui avevamo anche un settimanale diverso, però si veniva da una situazione molto short, un po' più piano, venivamo da questa situazione un po' short, qui c'è stata una lateralità, poi a un certo punto il prezzo, in qualche modo, fuoriesce, qui è una situazione comunque diversa, anche se pure qui c'erano situazioni di minimi crescenti. Comunque, il prezzo fuoriesce, poi a un certo punto falsa, cioè crea, praticamente questa era una trappola, e nel giro di tre, qua il quarto giorno, praticamente rompe, rompe al ribasso questa trap bar. Però, come si vede qui, non c'è stata la conferma del rialzo, ecco. Però, probabilmente, neanche il settimanale era impostato, come è impostato adesso il weekly. Però, in generale, quello che non... Ecco, questo era semplicemente per dire quello che non vorrei vedere, appunto, per andare long, cioè, dovesse verificarsi una cosa del genere, sicuramente non entrerò long, anche perché, insomma, serve appunto la conferma. Poi, se andiamo a vedere anche quello che è successo qui, chiaramente il prezzo addirittura ha fatto un forte ribasso, è andato sotto il box, crea qui un'ulteriore falsa rottura, torna su, e poi, insomma, qui si ricrea una... questa è una price action short, e poi il prezzo va giù, e ci siamo beccati tutto il ribasso del 2022. Però questo era, insomma, per dare uno spunto anche con quello che è, insomma, un'altra situazione di mercato, insomma, studiando l'euro-dollaro, che, insomma, mi è rivenuta in mente, studiandolo nelle scorse giornate e settimane. Quindi, questo è il mio piano, la situazione al momento è, appunto, sul conto di trading. Sono fermo, non ho posizioni aperte, abbiamo visto l'operazione in atto, o meglio, l'operazione che ho svolto sul conto è andata a costo. Devo dire che entrare short, dopo aver fatto un'analisi dove effettivamente ero molto più propenso per il long, mi ha creato un po' di resistenza, tant'è che sono preso il tempo per, insomma, per inserire l'ordine, ho cercato la debolezza. In questo caso non ho pagato, però, insomma, nel processo decisionale, insomma, ho preso anche il tempo per decidere, direi che si può sempre migliorare, però, insomma, nulla da ridire da questo punto di vista. Insomma, ho lavorato sugli swing, lo stop ampio, semmai, insomma, si può ragionare su come sempre migliorare, come dire, dal punto di vista di gestione poi del trade in atto. Do uno sguardo veloce anche a quello che sta dicendo il mercato, la sterlina è molto simile, probabilmente uno, cioè, se dovesse esserci una situazione di, come dire, confermativa di long su euro sterlina, andrò a scegliere uno dei due mercati, comunque sia l'euro che la sterlina mi piacciono molto per valutare un long. In realtà anche sull'Australia avevo un piano solo long questa settimana, al momento non lo conferma, nel senso che lo 0,65 sta in questo momento dicendo che non ne ha, insomma, il prezzo sta tornando pesantemente giù. Sullo yen vorrei vedere una conferma buona, qui abbiamo un setup sul settimanale che però non ha fatto, diciamo, il test di questo massimo, poco importa, siamo comunque su una zona di, come dire, di scolamenti di vendita, è il T4 di costa dinamica, è solo una confluenza di prezzo, però siamo su dollaro yen, che ha un trend long chiarissimo, comunque al momento non ha convalidato questa pinbar e allora attendiamo. L'altro mercato molto interessante invece è il dollaro Canada perché lo sto attenzionando, perché è arrivato su quest'area qui, quindi questa settimana l'ho rimesso in lista, è un'area sicuramente alta di un range che dura da ormai ottobre 2022, arrivati su quest'area qui di vendita, il prezzo crea un doppio massimo lower close, molto interessante, perché dovesse arrivare una conferma operativa sul daily, a quel punto potrei valutare una operazione anche più di medio periodo, perché qui, volendo, potrei posizionarmi in maniera tale che io abbia uno stop un po' più ampio, ragionare, cercare anche di fare un movimento un pochino più lungo, più tranquillo, anche se, insomma, questo è un mercato che potrebbe fare anche in tre settimane il movimento e tornare addirittura verso questi minimi, però, insomma, con calma ci dirà il prezzo, quelle che sono le intenzioni del mercato. Mentre sul mercato dell'oro ho lasciato al momento solo il long, questa è la situazione settimanale, andiamo sul daily, la mia idea è quella di rimanere long almeno finché il prezzo rimane sopra i 1950. Ora, lui sta attestato il 1960, vediamo, c'è un po' di debolezza nelle ultime ore, ci sta molto bene, però l'idea è che anche qui io possa valutare un ingresso long, anche se l'oro ha già andato tanto sul settimanale, vediamo, può darsi che qui lui possa avere anche un'ulteriore settimana di debolezza, da quel punto il mio piano diventa anche long short, però al momento, diciamo, mi mantengo con un piano esclusivamente long. Sul petrolio, che adesso, vedo, sta andando molto giù, ho un piano long short, l'idea è che c'è stata sicuramente debolezza, quindi il settimanale ha chiuso debole sotto i minimi di questa outside bar, però, insomma, siamo vicini, vicini a quest'area di dove sono arrivati gli ultimi acquisti, quindi l'idea è che potrebbe, qui, appunto, adesso sta andando probabilmente a prendere i 78, voglio vedere come si comporta sui 78, magari adesso fa un pullback e poi una continuazione short potrei valutarla come entri. ribassista, però, se qui dovesse crearsi una, come dire, una dinamica di recupero, anche di questo tipo, valuterei, valuterò probabilmente anche i long, perché a quel punto significa che l'outside bar settimanale è stata, come dire, feicata e l'idea è poi andare a lavorare sul livello 82 e andare verso i 90. Però, insomma, questo è un piano, al momento il prezzo sta dicendo altro. Per quanto riguarda gli indici, questo è l'S&P 500 che al momento rimane sempre sopra i 4.350, chiaramente ha dato già tanto, un piano long short anche sugli indici, perché se questo mercato dovesse ancora andare su, quindi senza fare ancora ritracciamento e poi tornare giù, potrei valutare anche uno short di breve, uno short fino a 4.300, qualcosa del genere, anche se è contro quella che sta dalla volatilità della settimana. Torniamo un po' sul settimanale. Mercato, questo, che in una settimana ha recuperato sostanzialmente lo short di due settimane, quindi diciamo che la varietà di volatilità è stata importante. Lo stesso, lo stesso un po' sulla Germania che però rimane un pochino più debole, quindi anche qui ha un piano long short, in ogni caso la preferenza rimane per i long dopo ritracciamento, adesso lui sta pullbackando, si trova sui 15.110, va bene, insomma vediamo, vediamo come come si comporterà il mercato nelle prossime ore e probabilmente insomma poi valuterò anche qui. Comunque l'idea è sicuramente questa settimana dov'essere presentarsi in occasione sull'euro o la sterlina e una entry contro, a questo punto, contro il dollaro americano. Bene, io avrei terminato questo, diciamo, questo aggiornamento del portafoglio di professione trader, ti chiedo, vi chiedo di lasciare un commento qui sotto per farmi sapere se è piaciuto, se c'è qualcosa che non è chiaro o comunque lasciare un mi piace se ovviamente il video è piaciuto e se non l'avete fatto iscrivervi al canale di Airforex e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati con i prossimi video. Per oggi è tutto, io vi saluto, buona giornata e soprattutto buon trading.